Musica Devo ancora istruire il cameraman, non è in grado Non troppo bassa No, più che altro hai fatto una forza di 20m che si sarà visto tutto su di No, dove mi faccio vedere, non quadravo tipo niente Vabbè, c'era l'ottoria di One Piece, adesso dobbiamo provarla Ho pescato una N che non mi sa di niente, adesso la proviamo poi Nei commenti mettetelo quel cameraman fa schifo e deve migliorare Perché io sto sguidando da 20 minuti e mi fa No, 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 ho 50 scuse Cioè, forse il cameraman è peggio di quello dell'anno scorso Non è vero Un bel posterone No Hai ragazzo, hai ragazzo il posterone Non ha capito che mi ha trattato di ciò Non ha capito che mi ha trattato di ciò Speriamo in una A, in una A, in una B, S, 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 S non è buono, pensavo che fosse più via, e T, pensavo che fosse più di A. Vediamo così, la camera va a caso e lei non guarda quello che riprende, è incredibile. Fai un giro intanto per il posto. Azzurra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una figura di Marco la Fenice piccolina e un altro posterone sempre di Marco la Fenice. E' la giornata di Marco la Fenice. Quindi sono un posto di Pei Mangani e poi i Mangani prenderei poi a Tokyo. Questa deve essere una novità, qualcosa di super figo che lui non lo comprerò sicuro. Però deve essere una novità di qualcosa. Il 2 c'è già, il 4, il 3. Però deve essere, c'è proprio il suo angolino. Ok, la costeria One Piece è andata. Arriviamo in albergo, posiamo le valigie e... A dopo.